Si è costituito all'aeroporto di Malpensa grazie a una mediazione avvenuta tramite la madre. Gaetano Fidanzati si è consegnato agli agenti che lo hanno condotto in carcere. Si tratta del nipote 27enne dell'omonimo boss palermitano dell'Arenella Acquasanta, morto nel 2013 nella sua casa di Milano, condannato nel primo maxiprocesso a Cosa Nostra e ricercato come mandante dell'omicidio del compagno della figlia. Aveva ottenuto i domiciliari dopo essere stato colpito da un ictus. Il giovane nipote era ricercato dallo scorso 11 aprile per associazione a delinquere finalizzata a traffico di stupefacenti importati e commercializzati nella provincia di Milano. Durante la latitanza, Fidanzati si trovava a Ibiza e, secondo quanto trapelato, è stata la madre a convincerlo a costituirsi. La polizia aveva eseguito un'ordinanza di custodia cautelare contro 33 presunti appartenenti a un'organizzazione dedita allo spaccio di droga. Nell'operazione della narcotici, denominata Old Story Eden, erano stati indagati 27 italiani e 6 albanesi. Gli investigatori della squadra mobile di Milano negli ultimi 30 giorni hanno scoperto che l'uomo si nascondeva in Spagna, Ibiza. Fidanzati, secondo gli inquirenti, è personaggio di spicco del gruppo che acquistava e distribuiva marihuana e cocaina per il mercato di Bruzzano e della zona Comasina, svolgendo anche il ruolo di intermediario con i fornitori albanesi.